amiche amici del corner Sampdoriano bentornati cambia l'allenatore non cambia il risultato in questo duemila ventidue la Sampdoria continua a non fare punti è evidente che è difficile non farsi prendere dal pessimismo cosmico se si guardano classifica e risultati ma noi siamo qui per questo nel senso che in questo spazio proviamo ad analizzare in modo freddo razionale obiettivo non è detto che ci riusciamo anzi però insomma eh cercando di non farci prendere lo sconforto per i risultati e vedere che cosa c'è stato di buono e di meno buono se per non dire di pessimo nella Sampdoria che esce sconfitta dal picco alla panchina numero cento ventiquattro di Marco Giampaolo alla guida della Sampdoria dunque siamo arrivati a questo match con Giampaolo che si è presentato e le prime voci dai primi allenamenti che ci eh facevano intuire capire che doveva dovevamo scordarci evidentemente i tre anni della Sampdoria vista con Giampaolo dal duemilese al duemiladiciannove perché adesso il contesto è cambiato alcuni giocatori una buona parte sono diversi è cambiato anche Giampaolo e soprattutto è un allenatore che entra in corsa e quindi non può iniziare a ragionare come se stesse arrivando a giugno e potesse costruire di giorno giorno per giorno eh in modo da trasmettere le sue idee ai suoi giocatori e già ci siamo almeno ci siamo ci sono cascato eh nel senso che alla fine poi la notizia è iniziata a filtrare nella mattinata di domenica in realtà Giampaolo è ripartì e questo insomma il discorso precedente aveva come base il fatto che si sarebbe ripartiti da un tre cinque due che un modulo che Giampaolo non ha mai amato l'ha fatto un pochino a a Torino l'anno scorso quando ha dovuto cambiare ma per adattarsi al contesto in cui il suo quattro tre uno due non attecchiva però evidentemente aveva una sua logica che Giampaolo arrivando in una situazione in cui c'è da fare concretezza c'è da salvarsi e quindi c'è da valorizzare al meglio il materiale umano disposizione provasse questo tipo di soluzione invece filtrata nella mattinata di domenica e poi confermata dalla dal campo Giampaolo è ripartito dallo stesso modulo che aveva eh intanto Candreva come trequartista questa era la prima notizia e questo anche a testimoniare il fatto che io spesso di calcio ci capisca poco non non pensavo potesse essere una soluzione anche se vedevo più probabile quella come vi ho detto nel video precedente eh rispetto a Candreva Mezzala eh inizio di partita primi venticinque minuti devo dire ho avuto delle discrete sensazioni eh sgombriamo subito il campo c'è stato un grande assente in questa gara del Doria al picco e cioè le occasioni da rete provvedel non ha dovuto fare grandi cose c'è c'è stato ovviamente il palo di Caputo e quello è anche un segnale che insomma l'annata inizia a prendere una piega non particolarmente esaltante perché sono segnali perché lì si era sullo zero a zero praticamente un minuto dopo lo Spezia l'ha sbloccata con il gol di verde comunque inizio discreto perché le idee che noi ben conosciamo le trame le scelte di Giampaolo e Sandole insomma iniziava ad avere un'idea una alcuni meccanismi di gioco dell'ordine ho visto dell'ordine in mezzo al campo e mi è piaciuto il modo in cui funzionava soprattutto in fase di costruzione la sistemazione della mediana con Ekdal eh riportato a casa propria come mediano affiancato da due scudieri da due mezzali che erano Ekdal eh scusatemi Rincon e Torsby. Rincon credo sia la nota più più positiva di questa partita dopo averne giocate sostanzialmente tre compresa la Coppa Italia sembra già un giocatore che conosce i segreti di questa squadra che sa come muoversi che concede un apporto fondamentale a livello sia di palleggio sia ovviamente di di contrasto e di forza è un 4-3-1-2 volontariamente asimmetrico storto se vogliamo perché è una squadra che così schierata almeno oggi così come la schierata costruisce a sinistra e se ci pensate è una soluzione che utilizzano tante squadre con un centrocampo a tre mi viene in mente la Lazio di Simone Inzaghi e anche quella di Sarri e la stessa Inter di quest'anno e dell'anno scorso accanto a un regista prendiamo l'Inter per esempio che è Brozovic l'anno scorso Eriksen e quest'anno Cialanoglu quindi la mezzala di sinistra si abbassa e diventa quasi una specie di secondo regista anche perché spesso quello vero e proprio viene schermato mentre la mezzala destra è in tutti questi casi un assaltatore quindi per l'Inter è Barella che è l'assaltatore migliore della serie A probabilmente in questo caso da noi lo fa Torsby ed è una soluzione che secondo me ha una mia logica scusate secondo me ha una sua logica la stanchezza quindi l'effetto è stato che nel primo tempo abbiamo tentato di costruire soprattutto a sinistra con questa scelta subito chiara dall'inizio Giampaolo vuole evitare il più possibile che il giro palla coinvolga nella prima costruzione i terzini tante volte Magnani e Ferrari se la sono scambiata con Augello libero a sinistra non è stato fatto lo scarico su Augello perché evidentemente quella quel tipo di passaggio è un segnale che invita la squadra avversaria a venirti a pressare invece c'è stata maggiormente la ricerca della della giocata verticale verso la mezzala che si veniva a smarcare quindi spesso Rincon qualche volta abbiamo visto riuscire la giocata con Rincon che viene incontro quindi viene saltata riceve viene saltata una prima linea di pressione scarico su Ekdale palla subito il famoso palla avanti palla dietro palla dentro è riuscito un paio di volte chiaramente è una giocata che per uscire bene ha bisogno di automatismi che vanno oliati sicuramente in tre giorni era difficile aspettarsi di più da questo punto di vista poi la prestazione di Candreva come trequartista non è stata esaltante ma l'ho visto provare a divertirsi a trovare la posizione ad associarsi con gli attaccanti lui e Gabbiadini hanno fatto delle cose discrete anche se intermittenza in fase e in zona di rifinitura purtroppo mi duole segnalare l'ennesima partita forse la peggiore da quando è alla Samp di Ciccio Caputo diciamo nobilitata definitivamente dal palo la ciliegina diciamo è stato il palo del sullo 0 a 0 sul colpo di testa sul calcio d'angolo però veramente sbagliato tutte le sponde tutte le giocate in cui la Sampdoria poteva uscire con la manovra e lui anche in situazioni diciamo non forzate non non è senza essere pressato non è riuscito a fare la giocata giusta e quindi la Sampdoria si è andata via via sfaldandosi perché lo Spezia poi dalla seconda parte del primo tempo ha preso le misure un elemento chiaramente di svolta della gara sono stati tre cartellini presi dai tre centrocampisti poi culminati nel rosso a Ekdal che è stato un rosso pesante un rosso che può essere anche comprensibile perché il primo giallo c'era sicuramente il secondo era forse opinabile ma alla fine ci sta e chiaramente insomma lì sostanzialmente è finita la partita abbiamo provato a organizzare qualche mischia nel finale nell'area di rigore avversaria ma senza riuscire a preoccupare più di tanto lo Spezia e Provedel oggi credo non abbia dovuto fare parate di rilievo da sottolineare ho apprezzato alla fine lo Spezia non l'avevo mai visto con grande attenzione quest'anno questa organizzazione molto fluida a livello di soluzioni offensive grande aggressività per tutta la partita con pressing diciamo alla Gasperini e andando sull'uomo per tutte le zone del campo mi permetto di dire che non ho particolarmente apprezzato ora non ho ancora visto il dato dei falli commessi però mi sembra quanto meno discutibile il fatto che sia stata la Sampdoria quella con più ammoniti ora non ho il conto ma siamo lì lo Spezia con tutta questa aggressività ha fatto molti più falli ripeto questa è la mia percezione insomma mi sarei aspettato qualche cartellino in più per i giocatori dello Spezia ma lungi da me dire che questa sia stata una cosa decisiva alla lunga per l'esito della partita che lo Spezia pur senza aver creato tantissimo di più ha ha meritato di vincere perché sembra una squadra chiaramente più avanti nel suo percorso e arriva anche da risultati che legittimano questo tipo di discorso l'ha vinta Tiago Motta anche con il cambio perché effettivamente l'ingresso di Agudelo ha spaccato la partita perché la sua azione prima ancora del cross per il gol di verde nasce con una conduzione palla a centrocampo puntando Ekdal che chiaramente essendo ammonito già di per sé farebbe fatica a tenerlo se puntato in campo aperto senza neanche poter spendere un intervento rischioso diventa ancora più debole in fase difensiva in quella situazione lo svedese quindi lì è nata l'azione dello Spezia che poi si è conclusa con il cross di destro del mancino Agudelo e il gol di destro del mancino verde che già ci aveva fatto un gran gol all'andata segna questo gol pesantissimo al ritorno e e quindi salita pendenza della salita della stagione della Sampdoria che aumenta ulteriormente bisogna restare compatti bisogna restare ottimisti ho apprezzato e questa è una nota che voglio sottolineare come mi sarei aspettato con il ritorno di di Giampaolo che resuscitassero anche le polemiche dei pro e dei contro dei quelli che sono a favore quelli che sono contro al tecnico di Giuliano va e invece questo mi sembra che non ci sia stato più di tanto ho notato un certo una certa maturità sui social nei commenti ai post eccetera eccetera da parte della tifoseria blu cerchiata questo è un buon segnale è fondamentale mantenerla perché questa squadra ha dato dei anche se piccoli segnali di poter costruire costruirsi un'identità che che può servire e io non sono dell'idea che il calcio di Giampaolo non sia giusto per salvarsi anche perché ne abbiamo la dimostrazione le squadre che si vogliono salvare leggi Spezia stesso e Venezia ad esempio e vogliamo metterci anche l'Empoli che iniziavano doveva salvarsi fanno un gioco offensivo propositivo fresco e aggressivo e non speculativo quindi per me ci sta di percorrere questo questo sentiero confidando anche nel ritorno dei giocatori che sono mancati vi ringrazio per essere arrivati fin qui questo video e aspetto i vostri commenti qui sotto grazie a tutti